Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come promesso eccoci qui per parlare degli altri stadi di Roma quindi in questo video non verrà citato nell'Olimpico, tutti gli altri stadi che hanno avuto la Roma, la Lazio eccetera eccetera ma stadi dove ha giocato la Juve, stadi comunque della capitale o comunque vicino alla capitale dove la Juve ha disputato le partite anche non con la prima squadra, infatti poi vedrete che comunque fanno parte appunto di Roma e secondo me era giusto citarli anche perché qualcuno a Roma ha veramente fatto la storia cominciamo, l'ho citato già qua, è il quarto video dove viene citato questo stadio, allo stadio Flaminio lo stadio Flaminio inutilizzato da Roma e Lazio se non nella stagione 89-90 per via della ristrutturazione dello stadio olimpico vede comunque una partita della Juve in campo neutro in Coppa Italia nel 63, Juve foggia 2-1 le reti di Zigoni e Anastasi un altro stadio dove la Juve ha giocato partite addirittura ufficiali è il campo velodromo salario il velodromo salario dove la Juventus ha giocato addirittura una partita di Serie A contro l'Alba Roma ancora prima della fondazione dell'AS Roma e la Juventus in questo girone vinse 2-0 con le reti di Barale e Munerati campo velodromo salario che se non sbaglio dovrebbe essere ancora funzionale non sono sicuro ma potrebbe essere, qualcuno può anche correggere, non sono riuscito a trovare informazioni in merito adesso veniamo ad un altro impianto, l'impianto dello stadio delle Tre Fontane lo stadio Tre Fontane è bellissimo, mi piace tantissimo, viene utilizzato dalla Roma da tantissimi anni come stadio per quanto riguarda la formazione primavera, negli ultimi due anni è diventato lo stadio anche della squadra femminile dell'AS Roma la prima vittoria che sono riuscito a documentare è una reti di Jakupovic che permette alla Juve di vincere appunto al Tre Fontane contro la Roma 1-0 e qualificarsi così alla fase finale del campionato primavera poi ci vinse anche la Women, ci ha già vinto due volte, tutte e due le volte per 4-0 quindi sicuramente uno stadio che alla Juve evoca buoni ricordi ma prima che si formasse la S Roma femminile a Roma c'era una squadra femminile che c'è ancora ma adesso milita in categoria inferiore, la Res Roma e la Res Roma giocava all'Unicusano Stadium all'Unicusano Stadium la Juve è un solo precedente, è una vittoria di 1-0 con le reti di Isaksen proprio contro la Res Roma che poi diventò l'anno dopo vendette la licenza per la Serie A alla S Roma e appunto poi da lì c'è la Roma che conosciamo comunque la prima partita vinta in questo stadio è appunto contro la Res Roma con la reti di Isaksen poi la S Roma femminile appunto come ho detto passò al Tre Fontane un altro campo dove si è giocata una partita del campionato primavera è il velodromo olimpico costruito negli anni 60 una delle prime edizioni del campionato primavera abbiamo un Roma-Juventus 1-0 per la Juve non si conosce il marcatore ma comunque la Juve giocò in questo stadio stadio che adesso non c'è più ma che allora fu costruito appunto per l'Olimpiade 1960 rimaniamo in tema primavera centro sportivo Bernardini Trigoria qui c'è stata la prima vittoria della Juve negli anni, fine anni 70, inizio anni 80 attaccolerei la doppietta di Rossi Rossi appunto ancora primavera della Juve permise alla Juve appunto di batterla Roma 2-0 adesso qua c'è uno stadio un po' particolare perché non è uno stadio di calcio lo stadio dei Marmi nessuna squadra ha mai giocato nello stadio dei Marmi ma la Juve dopo una partita negli anni 30 contro appunto l'AS Roma per anche inaugurare il foro italico che Mussolini creò allora all'epoca del fascismo si fece un amichevole contro la Romulea squadra che ancora tuttora è presente nel territorio romano e la Juve mise 3-0 questa sgambata con le due reti di Borer e il gol di Orsi la Romulea creò un rapporto con la Juve di piacere l'anno dopo invitò la Juve a fare un'altra amichevole però stavolta nel loro campo il campo Roma al campo Roma la Juve si impose 1-0 con le reti di Ferrari veniamo invece adesso all'altra sponda di Roma per due stadi diciamo di settore giovanili cominciamo con una struttura nuova su cui la Lazio ha fatto affidamento per i campionati dall'Under 17 in giù il centro sportivo Green Club abbiamo una partita un solo precedente Lazio-Juve 1-2 con l'Under 16 perché poi c'è l'Under 15 ho tenuto buono l'Under 16 perché è stato il primo ed è quella possiamo dire più vicina alla prima squadra in ordine temporale Lazio-Juve 2-1 non ho i marcatori però ma credo che se li cercate li potete trovare io ci ho un po' rinunciato ma sicuramente li trovate ma poi la Lazio gioca anche a Formello a Formello l'anno prima la Juve da 17 si era imposta 3-1 sulla Lazio ora gli stadi che ho cercato io li abbiamo praticamente terminati io però ho fatto due extra perché c'entra la Juve quindi due extra andavano fatti ho messo anche il complesso natatorio del foro italico dove ci sono i mondiali di nuoto dove si fanno i mondiali di nuoto perché? perché la Juve lì ci ha vinto dei campionati italiani di tuffi e quindi assolutamente andava messo ho messo questo e ho messo anche lo stadio del tennis del foro italico perché ho messo lo stadio del tennis del foro italico? perché qui la Juventus ha vinto tre campionati italiani assoluti di tennis negli anni 30 quindi andava detto e quindi andava fatto insomma andava specificato questa cosa ragazzi questo è io spero che questo video vi sia piaciuto a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento per i prossimi video del canale ciao a tutti